bello a tutti ragazzi qui trova che parlo oggi sono tornato con un nuovo video sul mio canale quest'oggi sono qui perché voglio provare a fare una sorta di fan art di sfera più che una fan art definiamolo come una sorta di cartoon cioè trasformare questa foto di sfera in un soggetto un po cartunesco ho visto diversi video e foto su youtube e ho sempre diciamo guardato con molto fascino questa tipologia di disegni perché non li ho mai fatti ma mi sarebbe sempre piaciuto farlo adesso che ho la possibilità vorrei provarci la prima volta che provo un qualcosa di simile quindi mi auguro che venga fuori qualcosa di bello e non una cacata perché so che molti di voi rispettano il personaggio e se viene fuori una cacata poi venite sotto casa e mi puntellate coi forconi quindi io non voglio questo ci tengo alle mie chiappe e un buco mi basta avanza quindi spero vivamente che venga fuori qualcosa di bello tenete la mente che potrò fare altri video in futuro dipende se viene bene ovviamente e se l'idea vi piace dunque lasciate un pollicione su e un commento magari proponendomi chi dovrei fare in futuro a differenza di altri video quest'oggi porterò un disegno solo quindi ho tempo anche per parlarvi ogni tanto non farò solo speed drawing e direi che possiamo partire prima cosa ho importato la foto di sfera la utilizzerò come base quindi abbasso la cosiddetta opacità e uso proprio la foto come base per fare diciamo le forme principali questo mi serve anche per avere un'immagine fedele e non andare tra virgolette a mente o fare robe strane quindi partirei dalla faccia e sto utilizzando una sorta di penna calligrafica come vedete in base alla pressione cambia il tratto ed è per questo che probabilmente vedrete dei tratti come dire non lineari in base alla mia pressione cambia decisamente ora devo prenderci la mano perché altrimenti mi metto a rifarla 20 volte so già che un po cacca il cazzo va bene e facciamo l'orecchio comunque quello che c'è all'interno dell'orecchio vado con la linea dei capelli i capelli sono indeciso se farli tra virgolette normali penso che anche questi li ripasserò proprio tranquillo con il nero e ci farò qualcosa di semplice non starò lì a fare chissà quale particolarità questo pezzo di capelli lo lasciamo così e vabbè qui per i capelli per ora lasciamo facciamo una sorta di silhouette linea cosa che comunque faccia capire che sono un po spazzolini ma non non troppo ripeto è la prima volta che ci provo quindi sono qui anche per imparare questo per dirvi non ammazzatemi nei commenti se sto facendo delle minchiate galattiche ma capitemi toglierò tutta la parte qui del pelo perché sinceramente vorrei far solo la testa quindi andiamo di collo e via stavo pensando anche di fare una sorta di grime quindi fagli tutti i giri gori come se si stesse sciogliendo adesso vedo come organizzare il lavoro cosa difficile sicuramente gli occhiali ed eccoci con gli occhiali allora non è che siano proprio precisi come degli orologi svizzeri eh ma neanche lontanamente però però non voglio neanche perdere vent'anni su sti occhiali ok faccio gli ultimi ritocchi dove ci sono essenzialmente le parti nere andrò proprio a riempire con il nero ad esempio qui nei capelli vedo dei buchi neri che non sono quelli spaziali ma avete capito più o meno metto un attimo l'opacità che sono probabilmente delle sfumature eccetera ma diciamo che danno un po' più di colore anche dopo l'effetto viene sicuramente più bello allora con questo coso attivo ho la possibilità di rendermi conto un po' più dove sono magari i punti che dovrei ripassare vedete ho fatto tutta la barba con i pallini qua sul collo non gli metto la barba tipo qua c'era una parte un po' più scura sono andato a farla nera e qui i capelli ho deciso di optare anche qui per i pallini e poi andrò a colorare sotto quando faccio tutte le campiture ok ok direi che ci siamo possiamo togliere il nostro disegno base e abbiamo questo ora non ci resta meglio non mi resta perché sto lavoraccio me lo devo fare io di sistemare il disegno ho deciso che qui il collo come detto prima farò una sorta di grime quindi lasciatemi finire prima di andare a colorare questa cosa ok è un po' strano da vedere adesso ma spero che colorato venga un po' meglio quindi è il caso di passare al colore vado a duplicare quindi il livello lo porto sotto e procedo al colore mi servirà come riferimento l'immagine originale che metto qua in parte giusto per un referral per capire più o meno dove andare ad agire come colorare e anche questa mi occuperà un po' di tempo siamo già a 20 minuti e passa di disegno quindi questa è la parte decisamente più lunga come vedete prendo trascino il colore e lui mi fa tutta la campitura cioè mi riempie per campitura intendo che mi riempie tutta porca tutta l'area che è racchiusa da delimitata diciamo ora farò tutta la base con questo colore poi ovviamente andrò ad aggiungere anche le sfumature perfetto direi che ci siamo e sì è giunto il momento adesso di passare definitivamente alla fase colore è questa quella più impegnativa terminato per ora è la parte del volto quindi sono a metà più che terminato perché adesso manca il secondo grado di sfumatura che andrò a farlo con un colore ancora più scuro così da dare ulteriormente il senso di ombra ombreggiatura poi passerò agli highlights quindi colore più chiaro e dunque sì sono praticamente a metà della faccia poi però vabbè i capelli, la bocca, gli occhiali e sta parte qua del grime sono un po' più semplici quindi sono abbastanza tranquillo vedete sto cercando di dare contrasto creare appunto questi effetti di chiaro scuro soltanto con dei colori quindi non usando colori scuri o nero o robe del genere a metà ok i capelli ho deciso di farli così senza star lì troppo a fare sfumature mica sfumature perché semplicemente vabbè sono di questo rosa magari un rosa un po' più scura adesso lo utilizzerò per fare proprio qui dove ci sono tutte queste righette qua qualche sfumatura un po' più sul basso ok mancano le labbra e i denti poi per il resto vabbè gli occhiali che non hanno quelle grandi sfumature sono quasi indeciso se lasciare bianco o quindi i denti tra virgolette trasparenti o giallo comunque adesso passiamo le labbra come vedete sto aggiungendo questa specie di sfumatura solita un po' più scuro e adesso vado con un bianco quasi per fare invece la parte centrale e direi e direi che ci possiamo essere occhiali arancioni è l'ultimo passo sono un po' troppo gialli quindi abbassiamo l'opacità di questo livello di tutto il livello ok perché non voglio qualcosa di troppo troppo acceso vado a colorare qui gli occhi dovrei dovrei essere a posto vado ad aggiungere lo sfondo e a tra poco ok raga il disegno è finalmente finito io mi auguro vivamente che abbiate apprezzato spero che non vi abbia annoiato ma che vi abbia rilassato e che boh vi abbia divertito non lo so mi auguro che lasciate un bel pollicione su se il video vi è piaciuto è durato davvero tanto ma alla fine sono soddisfatto probabilmente la caricherò su instagram quindi fate un salto sul mio profilo instagram tolafra-art magari taggate sfera perché se posta questa fanart all'interno delle sue storie io sono l'uomo più felice del mondo quindi se mi fate questo favore raggiungete la foto un bel like e magari taggate anche il carissimo sfera cosa che mi sono dimenticato prima di concludere non ho colorato l'orecchino magari qualcuno di voi se n'è accorto lo vado a far subito e direi che il video può concludersi qua grazie infinite per la visione da tolafra è tutto e ci vediamo alla prossima bella